e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su GTA 5 online oggi siamo in un face to face che ho creato per pork mods ed è anche lui qua in affidità con noi 3 2 1 let's go! guardate che spettacolo sto face to face nell'acqua adesso vedrete no 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 metrò la tè metrò la tè ok vedete parte invisibile nell'acqua eccoci qua tu è vero allora che se voglio il suino prima e seconda è ok allora rega cambio veicolo ora bisogna fare panico no 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 non dai in acqua c'è gente che è rimasta indietro oh mio oddio inizia il delirio però che sta a fare? non puoi contro il camion degli zombie oster andiamo avanti dove non è retro marcia via 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 prendi turbo prendi turbo ok spettacolare mi piace tanto questo mio face to face ne ho creati due poi registrerò se vi piacciono porterò anche gli altri adesso abbiamo l'autorampa e adesso sono guai per tutti ora sono guai decisamente per te ti becco lo blocco questo è meglio non beccarli no 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 mi piace ok ok adesso dovremmo avere l'autorampa contro adesso dovremmo avere la 80 pro auto esatto qua adesso andiamo veloci però troveremo le autorampe contro quindi raga la situazione si fa... dai dai rimettete di bene no, no, due autorampe levate sui ok, ok, no rispondi, ah mannaggia ho perso tempo qua allora, adesso abbiamo il camion con la punta e questo fa male andiamo a beccare un po' sui, oh sui oh io io io, oh schio che metrollate siamo in terza raga, siamo in terza qua troviamo questo qua, dove vai? sui oh squamma mia disastro, oh schio ok, ora abbiamo... è partito il turbo, scusate però è meglio respawnare che se si fa prima via 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 oh mio dio, voi sono fermati io, via 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 sono ancora in terza faccio due camion, due camion, due camion, madre mia passati mello, scusate mello, scusate mello, stima turbo ok i primi due sono qua, adesso sono qua i nostri con la ISSI sono guai con la ISSI sono guai via 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 via, secondi? chi è il primero? Anto Paolo ma è quanto? qualcuno lì, Anto Paolo ma io stiamo in prima, stiamo in prima raga stiamo in prima, stiamo schivando ecco lì, stiamo schivando niente stando bene stando bene, veloce, veloce tre minuti di gara, sono in primera stiamo andando bene quanto di dribbling a gergo calcistico ora abbiamo la vigilante veloce vigilante più che puoi carica il turbo non conviene trollare con la vigilante se rischiamo che ci rimaniamo noi trollati oh, questi trollano vedete vedete spavoliamo abbiamo di nuovo il ho rimesso di nuovo il camion questo contro l'invasione degli zombie bello perché davanti vedete c'è tipo una cosa con la punta quindi è molto buono per i face to face i due vigilanti non sono buoni ho beccato due vigilanti che fanno male eh però essere secondi non è male per ora ora cosa abbiamo non ricordo che l'ho messo qua l'autorampa adesso qua si fanno disastri raga qua a meno che non c'è il camion con la punta e il resto dei veicoli di bulli spazzinari ecco qua ecco qua sui occhio occhio poi c'è oh sun place occhio chi abbiamo qua? oh sui ah che bello il camion con la punta occhio ok adesso c'è ora abbiamo il dune allora il primo è qua Napolitano siamo qua siamo qua allora Allora, veloce, prodotti in panne, due, oh no 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 no, madre mia l'ho schiorato, due, questo no però, arrivati alla fine, abbiamo il camion adesso, questo lo adoro, il camion con la punta lo adoro. Allora, andiamo a trollare qualche suino, siamo in seconda ancora, vediamo chi c'è da trollare, c'è nessuno, dove stanno di più, oh suini, dove è stato, questa parte, questo no, oh il dune, madre mia il dune come vola, oh il dune come vola, oh non volo io pure, adesso abbiamo il monster truck regà, ah ah, qua sono guai adesso, però i dune vedo che sono qua, però adesso arriverà il camion quello, quella punta, faccio girare, tutti qua, via 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 via, sui, e non me vieni addosso a me, tutti addosso a me, via via via, che arriva il camion con la punta e ce lo vieni, qua, qua c'è lì, qua c'è l'ingorgo più totale, qua c'è l'ingorgo, che diavile, qua c'è lì, 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 qua c'è qua sono guai, qua sono tutti i camion grossi, però noi abbiamo la velocità a nostro favore è tutto in mezzo, via 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 via, veloce, ok! no no non volevo, volevo, madre mia! levatevi guarda mannaggia guarda cambiamo la punta ancora ora facciamo il devasto facciamo il devasto 8 minuti ragazzi stiamo giocando la primera oh du stiamo giocando la primera no no non l'avevo vista che abbiamo dentro basta che non esplode girati ok ormai ormai questo scontro siamo giocati o no la primera forse si forse no tanto il prossimo veicolo ok andiamo Rocket Voltic a tutto turbo a tutto turbo Rocket ho un certo a guardo ma corre più il camion che la Rocket Voltic regà no 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 oh no due camion no regà no 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 mi chiedeva non è venire il cattivo al turbo no 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 ma che diavolo sta succedendo tutti adesso stanno a passare no regà la seconda è mia dai girati Rocket Belush madre mia quello ha avuto fortuna che ha concluso in prima però vabbè ha avuto una fortuna io ho beccato in panico però dai siamo qua allora qua adesso arriva con la vigilante non si scherza veloce 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 ok anche la nostra seconda dai 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 e anche se arrivavo prima non potevo perché la gara l'ho fatta io quindi la seconda va più che bene regà spero che questo cara cara cioè face to face vi sia piaciuto lasciate tanti bei like iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per non perdere l'inizio un video e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella regà grazie